Cambiamo adesso decisamente argomento, la finanziaria in Sicilia crea dibattito per le misure messe in campo e per l'accordo Stato-Regione. L'intervista all'assessore regionale al bilancio, nonché vicepresidente della regione siciliana Gaetan Armao. C'è una manovra molto complessa che si colloca in un contesto economico-finanziario assai difficile provato dalla pandemia, provato dagli effetti economici che questa drammatica pandemia sta determinando nel nostro tessuto già debole sul piano economico-finanziario e pertanto tiene conto anche di minori entrate e di esigenze di ripienamento del disavanzo. Peraltro in Commissione bilancio si è avuto modo anche di approfondire alcune questioni che sono state evidenziate dall'ufficio studi e che sono state ampiamente chiarite con la relazione e con il ragione generale abbiamo presentato alla Commissione. Nessun problema, si può andare avanti benissimo con l'esame della documentazione, purtroppo in un contesto che è quello derivante dall'accordo che abbiamo dovuto concludere con il Governo nazionale che ha spinto verso una restrizione sull'utilizzo delle risorse finanziarie della regione, tuttavia consentendo però come unica regione in Italia non solo il ripienamento in dieci anni del disavanzo che ci proviene dagli ultimi trent'anni, ma anche consentendo per quest'anno di rinviare al disavanzo alla fine del decennio e quindi avendo risorse disponibili che in questo momento possono essere dispiegate per le famiglie, per le imprese, per tutti coloro che attendono un intervento della regione, un movimento di risorse finanziarie che è essenziale e che si accompagna all'attuazione del bilancio. Cerco perché deve durare il meno possibile l'esercizio provvisorio perché questo consente con l'approvazione del bilancio di liberare le risorse che il bilancio reca con sé, che sono assai ingenti essendo il bilancio della regione un bilancio plurimiliardario. Quindi andiamo avanti, andiamo avanti velocemente con alcune innovazioni, alcune misure inserite dal governo musumesci nell'ambito della legge di stabilità e del bilancio e con quelle che l'Assemblea vorrà proporre che speriamo a più breve possano diventare norma efficace pubblicata in azienda ufficiale.